Bossi dice meglio più soldi alla ricerca e meno alle bombe. Il Partito Democratico come commenta questa protesta oggi? Io credo che Bossi oggi stia cavalcando cinicamente entrambi gli argomenti perché la Lega fa esattamente questo gioco nel senso che poi appoggia la maggioranza di questo governo che sceglie la riforma universitaria che non mette soldi, che fa tagli di 1 miliardo 350 milioni all'università, che praticamente è completamente vuota tanto che la Commissione del bilancio non ha potuto mandare avanti il provvedimento, non ha potuto far arrivare in aula perché non ci sono soldi. È chiaro che questa è secondo me la posizione più corretta e che invece il PD ha attenuto non solo difendendo i ricercatori, non solo difendendo una università che premi sì il merito ma che garantisca anche coloro che frattanto si ritrovano senza un lavoro secondo la Gelmini altrimenti, ma nello stesso tempo dice a questo governo che ha sempre fatto dall'inizio di questa maggioranza tagli lineari in tutti i settori, compreso quello della difesa che oggi bisogna scegliere, c'è bisogno di decidere su quali priorità questo paese vuole investire il suo futuro ma mi sembra che come manchi una strategia in Afghanistan questo governo non abbia neanche una strategia complessiva per l'intero paese.